Musica Vediamo le notizie più importanti del nostro telegiornale Sale ancora la percentuale fra tamponi e positivi al covid Ancona rimane la provincia più colpita Due i decessi con patologie pregresse in forte aumento E ricoverati le persone in isolamento domiciliare Pesaro il giorno dopo la rivolta La macelleria parla al sindaco Ricci È stata una buffonata che ha compromesso l'immagine di una protesta pacifica Il titolare e commensali rischiano una denuncia penale Chi chiude i battenti e chi si reinventa La rabbia e la grinta di baristi e ristoratori Domani altre proteste nelle piazze di Pesaro e Ancona In ginocchio il mondo della cultura e dello spettacolo Al nostro telegiornale la presidente della fondazione Teatro della Fortuna Katia Amati Che assicura non abbiamo mai mollato e non lo faremo ora Sbarra la strada per contestarne la pericolosità Troppe buche, alta velocità e cartelli stradali mancanti L'appello al comune di residenti e imprenditori Perda il controllo dell'auto e si schianta contro tavoli e sedi di un bar Trageia sfiorata al porto di Fano A Monbaroccio l'ultimo saluto a Varis e Iacucci Presidente onorario della Proloquo e cuore pulsante dell'intera comunità Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con i decessi che si sono verificati oggi All'ospedale di Ascoli Piceno legati al coronavirus Le vittime sono due, un uomo di 61 anni residente a Maltignano e un settantenne di Fermo Entrambi presentavano patologie pregresse Cresce il numero di tamponi e aumentano in proporzione i casi di positività il covid nelle marche Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 380 contagi su oltre 1500 campioni Analizzati nel percorso nuove diagnosi Circa il 24,8% Anche oggi la provincia con il maggior numero di contagi Ancona con 133 Seguono Macerata con 109, Ascoli Piceno 64, Pesor Urbino 28, Fermo 23 e altri 23 i contagi da fuori regione Molti casi derivano da contatti in ambiente domestico e da contatti stretti compositivi I ricoveri salgono a 278 più 25 rispetto a ieri Mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 26 a 28 Calano invece i degenti in semi-intensiva e supera quota 8.400 il dato delle persone in isolamento domiciliare Più 607 in 24 ore E adesso ci spostiamo a Pesaro perché dopo la protesta organizzata in un ristorante Che Fano TV ha seguito in diretta Oggi il sindaco Matteo Ricci torna all'attacco Come commenta quello che è accaduto dopo la macelleria? L'esatto, diciamo, è il danno più grande che potessero fare alla manifestazione dei ristoratori e delle attività sportive La buffonata fatta alla macelleria ha compromesso l'immagine di una manifestazione specifica I diritti e le rimostranze di tanti ristoratori, baristi, gestori di palestre Che erano venuti a manifestare un disagio legittimo È stata una buffonata molto grave Molto grave perché a Pesaro le leggi si rispettano a maggior ragione durante la pandemia Molto grave perché ha messo a repentaglio anche la salute, credo, di molte persone Perché non c'erano mascherine Mi pare che dalle immagini che ho visto c'erano anche problemi di sicurezza E non si affronta con sfacciataggine in quel modo le istituzioni e le forze dell'ordine Anzi, fatemi fare i complimenti al questore, al prefetto, alla polizia municipale Perché hanno gestito con grande intelligenza la chiusura del locale Che è stato chiuso, evitando scontri, evitando collutazioni fisiche come abbiamo visto in altre città Però sono provocazioni molto gravi e io ho chiesto da subito il pugno duro Perché cose del genere non devono capitare Innanzitutto per rispetto di tutti gli altri che ieri hanno chiuso Hanno rispettato le regole, hanno rispettato la legge E non vanno in giro a fare buffonate pericolose come sono state fatte alla macelleria Per un po' di pubblicità personale si è buttato discredito su una categoria che non lo merita E al tempo stesso si è fatta una cosa molto pericolosa Quindi ho chiesto il pugno duro, hanno fatto un ottimo lavoro Il locale è stato chiuso Non è chiuso solo per cinque giorni, come qualcuno ha detto Questa è la chiusura immediata che può fare la polizia municipale Adesso la palla passa al prefetto e questore E staranno a loro a definire quali sono i reati commessi Le punizioni di conseguenza, le sanzioni o le ripercussioni penali Alle quali il titolare del locale e forse anche i partecipanti andranno incontro Ecco, ma che cosa ne pensano i pesaresi della protesta inscenata ieri sera? Sono d'accordo con l'imprenditore, sentiamo Liberta! 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 Questa mattina, nel giorno successivo alla protesta organizzata dall'imprenditore pesarese Umberto Carriera Siamo tornati a sentire il parere dei cittadini su quello che è accaduto ieri sera Tra questi c'è chi è d'accordo con il pensiero dell'imprenditore Che quindi continua a supportarlo E chi invece non è affatto d'accordo e sta dalla parte delle forze dell'ordine Che ieri sera hanno disposto la chiusura del locale Dove l'imprenditore aveva organizzato la cena dopo la manifestazione Allora, secondo il mio punto di vista non bisogna generalizzare Perché ci sono degli esercenti che rispettano le norme, le regole Sono in regola con le disposizioni dell'ultimo decreto E non andrebbero chiuse Perché è un settore che non è che produce i contagi più di altri settori I settori che oggi producono i contagi possono essere anche i trasporti Se non proprio i trasporti Non si può pensare che poi la manifestazione di ieri È ovvio che la protesta arriva Tutti sono pieni, non ne possono più Quindi lei è d'accordo con i ristoratori? Sono d'accordo con i ristoratori onesti Sono d'accordo con i ristoratori che rispettano le norme Sono contrari a quelle che se ne fregano E parte sta? Io ho una risposta molto complessa da dare Perché la situazione comunque non è semplice Le regole è giusto rispettarle Però diciamo che c'è molto malcontento E anche comprensibile Forse il ristoratore voleva lanciare una provocazione Io ho partecipato alla manifestazione Che è stata pacifica come erano le previsioni Perché questo DPCM è stato un po' illogico Nella chiusura dei cinema, dei ristoranti Dei teatri, delle palestre e quant'altro Non sono una che trasgredisce le regole Però ho capito la situazione che doveva essere Forse una sommossa popolare Quella di tenere aperto dopo le 18 Poi sul caso isolato Non posso che dare ragione alle forze dell'ordine Le regole sono per tutti Non è che tu devi essere salvato perché fai il furbo O era un'iniziativa che avrebbero preso tutti E allora tana libera tutti Oppure hanno fatto bene così le forze dell'ordine Io penso che è giusto manifestare Assolutamente hanno tutti i motivi Però c'era troppo assembramento C'erano persone senza mascherina Il che non esiste Quindi te peggiori la situazione in quel modo Non la migliori E poi il ristorante aperto No Le forze dell'ordine hanno fatto eruzione al locale E hanno disposto alla chiusura per 5 giorni Quindi lei con questo è d'accordo? Sono d'accordo perché è ok manifestare Però tenere il locale aperto Non penso sia stato rispettoso Noi siamo dalla parte della gente che labora Che ha bisogno e si è scesa in piazza Perché comunque lo fa per Perché senza soldi comunque non si muore di covid Ma si muore di altro Sì io sono d'accordissimo Sono dalla parte della gente che è scesa in piazza E ha deciso di manifestare Poi aprire il ristorante Non so Poteva essere fatto o non fatto Questo è una cosa da valutare Ovviamente capisco chi l'ha fatto Perché è per dare proprio Far sentire forte quello che voleva dire 50 operatori della ristorazione Di altre categorie provenienti da tutte le marche Vestiti di nero con mascherine bianche Seduti a terra distanziati di almeno un metro Con cartelli davanti a una tavola imbandita a terra Così domani alle 12 a Dancone In una piazza che verrà comunicata stasera o domattina Si presenteranno i partecipanti al flash mob Siamo a terra di Confcommercio Marche Centrali In particolare della Fipe Che si svolgerà in contemporanea in altre 24 piazze italiane Una manifestazione pacifica Si terrà anche a Pesaro All'11.30 Fanu TV la trasmetterà in diretta Sul canale 17 del Digitale Terrestre E sui social L'iniziativa è organizzata da Confcommercio Marche Nord Che scenderà in piazza del popolo Insieme agli esercenti E alle imprese del turismo, cultura, arte e benessere E proseguono dunque le proteste anche contro la decisione del governo Di spegnere le luci di ristoranti e bar agli ore 18 A Fano e Pesaro diversi imprenditori Si sono arresi di fronte a questa restrizione E annunciano la chiusura fino a fine novembre Fino al 24 Siamo sempre stati messi e etichettati come Quelli che fanno mal male I negativi, i lupi della notte In realtà noi siamo sempre quelli che servono le persone Famiglie comprese che vengono a mangiarsi un parino E siamo i più esposti Non ci sta Valentino Burlò Titolare del resto pub Orfanelle Situato nel centro storico di Fano Dopo aver imposto la chiusura per tre mesi Nella scorsa primavera L'ultimo decreto fa chiudere i battenti All'ora in cui molti iniziano a lavorare Cinque i dipendenti di questo locale Che rimarranno senza lavoro Il pranzo non lo vedo un'opportunità Perché comunque la media del target di Fano Soprattutto per chi ha bisogno di pranzare Sono buoni pasto e spese Diciamo prezzi che siano tra i 7,50 euro Non ci troviamo al margine per poterlo fare Siamo stati bravi, dirigenti, professionali Ci siamo riusciti a starci dentro Abbiamo rifinanziato Abbiamo fatto ripartire la produzione Con anche buoni risultati Questa seconda che prevede alti finanziamenti Ci mette in crisi Andiamo proprio a chiudere Tutto quello che è stato fatto di buono E anche tutto quello che è stato cucito Come ferita Tra il periodo di marzo E questo periodo L'imprenditore non comprende Le scelte del governo Perché crede che le situazioni In cui si verificano sembramenti Siano altre Come al mercato ad esempio O sui mezzi di trasporto pubblico locale Si vede lontano meglio Che i bus non ci sono Che nelle piccole città Già vengono a mancare Quei servizi pubblici Per la quale si è avuto Otto mesi di tempo per attrezzarli Adesso si chiede ai privati A gente come noi Di colpabilizzare la notte Quando poi tra l'altro La notte è anche sempre più prestiva E io vedo invece Che i comportamenti dei ragazzi E all'interno del mio locale E all'interno del mio locale Sono stati anche abbastanza dirigenti Le norme assicura il titolare Qui sono sempre state rispettate L'ultimo controllo delle forze dell'ordine È avvenuto lo scorso fine settimana Fatto ciò Si è sempre nel dubbio Di averlo fatto bene C'è sempre qualche sceriffo Che esternamente o internamente Ti voglia dire qualcosa Delle cattiverie Secondo me anche inutili So la gente che dice Alla fine è anche colpa vostra Ma come ti permette Di dirmi una cosa del genere A noi che ci siamo già In un bagno di sangue A fare sacrifici In totale legalità In totale professionalità È un'umiliazione dopo 35 anni A sentirsi questa cosa L'ho gestito locali In tutta Europa Sono tornato in Italia Mi devo sentire una cosa del genere Io mi chiedo Se queste persone Forse magari siano un po' stressate Posso capire che andare a fare le ronde notturne Fuori dei locali Non si è festeggiato Ma deve essere anche spiacevole Andare a rompere le scatole Scusate il termine In un locale che entro le mezzanotte E dentro i termini Sinceramente lo sta facendo legalmente Siamo tutti padri di famiglia Alla fine Potremmo chiudere i locali Per altri sei mesi Otto mesi Allora che Dopo dittici Dove dobbiamo andare Probabilmente magari Vado a fare l'autista in corriere E d'altra parte C'è chi ha deciso Di tenere aperto Il locale Reinventando La propria attività Angelica Panzieri Perché alle otto e mezza Arriverà la polizia Di fronte alle nuove regole Imposte dall'ultimo Di PCM Emanato dal premier Conte Anche baristi e ristoratori A Pesaro Stanno provando a reinventarsi Resta salvo il pranzo Della domenica Ma bar Pub Ristoranti Pizzerie Pasticcerie Dovranno comunque chiudere Alle 18 E così sarà Fino al 24 novembre Cercano di resistere Gli operatori del settore Che proveranno Ad intensificare Maggiormente Il servizio dell'asporto Tra i più penalizzati I locali dell'aperitivo Alcuni hanno deciso Di non chiudere E di anticipare Il servizio Della pericena Con il pranzo Menù a tema Cocktail originali Merende particolari Per i più golosi Insomma Esercenti Che sfideranno La sorte E proveranno A ripartire così Nonostante le difficoltà Torneremo a fare La pizza al piatto Consegnandola A casa O da asporto Chi vuole venire Fino al bar A prendere l'asporto Entrando Una alla volta E cerchiamo Di rinventarci Una cosa Che avevamo Già fatto La prima volta Del lockdown Cioè noi Tra tre ore Cominciamo a fare Le pulizie Finita la giornata Gli incassi Sono proprio A zero Pregando poi Che non piova Perché se piove Non aprono neanche Non si può permettere Di fermarsi Bisogna assolutamente Rinventarsi È difficile Perché bisogna Nel nostro caso Essere un'attività Prettamente seriale Riragionare L'offerta Riragionare Quello che Possiamo Possiamo offrire Al cliente Perché il cliente Ma deve sceglierci Speriamo che la gente Abbia voglia Comunque Ancora di uscire Sempre nel rispetto Delle regole E Ci siamo Perché comunque Il nostro lavoro È quello Dell'ospitalità È quello di Comunque sì Lavorare Ma anche di regalare Momenti Un po' più tranquilli Alle persone Faremo anche servizi D'asporto Lo faremo solo Su prenotazione Punteremo sulla cosa Che c'è sempre distinto Che sono i cocktail E Il discorso Dell'aperitivo Inteso come cena Ed è in ginocchio Anche il mondo Della cultura E dello spettacolo L'ultimo decreto Ha chiuso Cinema Teatri Lasciando a casa Artisti E maestranze Si pari calati Un silenzio assordante E migliaia di lavoratori Di nuovo a casa Attori Registi Cantanti Produttori Maestranze Il mondo dello spettacolo È ancora una volta Colpito dalle norme Anti-covid Cinema E teatri Rimarranno chiusi Fino al prossimo 24 novembre E in tanti Hanno già annunciato Che venerdì mattina Scenderanno Nelle piazze Di diverse città italiane Tra le quali Ancona Per manifestare La loro contraretà Persone che avevano già resistito per mesi Con pochi aiuti E che poi si erano rimboccate le maniche Per ripartire Fino a domenica Quando è arrivata L'ennesima doccia gelata Un grande dolore Perché in questi giorni Eravamo tutti impegnati A recuperare lo spettacolo L'ultimo spettacolo di prosa In cartellone Il 19-2020 E infatti Anche gli abbonati Hanno ricevuto tutta una lettera Per poter scegliere le serate Perché è una chiusura Che insomma Sinceramente Non ci aspettavamo Con questa forza Pur comprendendo la situazione Perché Non è che Non ci possiamo far carico Del momento Che stiamo vivendo Però ecco Dentro il teatro Non era mai successo nulla Infatti Nei mesi scorsi Anche il teatro della fortuna Si era adeguato alle normative Dai 570 posti Si era passati A 238 Termoscanner Gel per le mani E autocertificazioni Da compilare all'ingresso Tutto nella massima sicurezza Tant'è che sono stati diversi Gli eventi organizzati Dai convegni Alle visite guidate Agli spettacoli Non abbiamo mai mollato E non lo faremo ora Ci ha detto la presidente Della fondazione Katia Amati Che è già al lavoro Per progettare Iniziative E collaborazioni Speriamo molto In questa informazione Che era questa notizia Che ieri il ministro ha dato Il ministro Franceschini Che oggi O entro la settimana Incontrerà Tutti i lavoratori Le associazioni Rappresentanti Dei lavoratori Dello spettacolo Perché è veramente Un mondo in crisi Immaginate Cosa significa Chiudere un teatro Vuol dire Le maschere Gli addetti alla sicurezza I tecnici L'orchestra Il coro Tutti Tutti a casa E questo Insomma Ci mette Tanta Nostalgia Di un mondo Che volevamo Insomma Vedere Riaperto Alla grande Ma soprattutto Ci preoccupa Per tutto L'indotto economico Le famiglie Che sono coinvolte Tutto Comunque Ripeto Stiamo cercando Momenti Anche alternativi Per capire un po' Come non far perdere Mai al nostro pubblico A tutti i cittadini Questo legame Col teatro Con questa cosa Che come diciamo Sempre ci fa Riempire l'anima E ci rende più felici Ci fa Pensare di più Ci accompagna Anche nei momenti difficili Lo abbiamo dimostrato Durante le chiusure totali Rette dei servizi educativi Ridotte In caso di assenze Per almeno sette giorni Di calendario scolastico Per isolamento Quarantena dei bambini Ad annunciare l'iniziativa L'assessore del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli L'intervento prevede Una riduzione del 30% Sulla quota fissa mensile Per le scuole Dell'infanzia statali E comunali E una riduzione del 30% Sulla retta complessiva Dei nidi Ad eccezione Di chi paga Già la tariffa minima Sbarra la strada Per protesta Troppe buche Alta velocità Ma anche cartelli Stradali mancanti È successo questa mattina A Bellocchi di Fano Dove residenti Imprenditori Lanciano un appello Al comune Il servizio di Letizia Marchionni Un vecchio detto recita Un vecchio detto recita Uomo avvisato Mezzo salvato È stato ciò che ha fatto Il signor Valerio Paoloni Che dopo aver chiamato più volte Il comune carabiniere Di vigili urbani Senza ottenere risposta Ha deciso di sbarrare Via Vampa In località Bellocchi Proprio davanti Alla sua abitazione E ci troviamo qui In via Vampa In località Bellocchi Che anche in questo momento Come potete vedere È molto trafficata Da camion E che proprio questa mattina È stata chiusa Dal signor Valerio Paoloni In questo punto Con del nastro Vedo vedo Dei bidoni E dei bastoni Per impedire il passaggio Delle macchine E dei camion Una protesta esasperata Quella di Valerio Che afferma Non si sente sicuro Ad uscire di casa A causa del grande traffico Di camion Che sfrecciano ad alta velocità Proprio sotto l'uscio Della sua abitazione Che è Paoloni E non si parla più Tante salora E tante salivigine Ieri sera Dai e dai Io pescati Ieri sera Io ho detto Che io mi sono stancato I segnali non c'è Quella non c'è L'altra non c'è Non c'è niente E allora qua Una strada del deserto E non c'è una strada del deserto E' una strada che l'avete aperta Senza segnali Senza tabelli Senza righe Senza niente E allora qua Una strada da contadini E ragazzi Sono giù Saltata la fuga Della macchina Via gente Che voleva passare La strada Non la può chiudere Quella Ecclata Sopra sotto Ha preso Ha buttato via Tutto E il bastone Ha buttato da sotto Tutto Ha buttato per terra Non c'è illuminazione Manca la segnaletica adatte Ed il marciapiede invaso Dalla vegetazione Che limita lo spazio Della carreggiata Rendendola stretta E pericolosa Per lavoratori e residenti Alla protesta di Valerio Si uniscono anche I rappresentanti Delle aziende Situate lungo la via Già un anno fa È stata richiesta Una sistemazione Di questa strada Che è diventata Principale Per il collegamento Da nord a sud Della zona industriale Ci era stato detto Che veniva sistemata La questione E nonostante tutto Sono passati 13 mesi E non abbiamo ottenuto niente Questa strada Se è vero Che diventa La strada principale Di collegamento È l'unica strada Non illuminata Quindi si parla Di sicurezza La sicurezza Delle persone Che lavorano qui Che non è possibile Che tutte le volte Che escono dal lavoro Devono sperare Di arrivare sane Alla loro automobile L'anno scorso Abbiamo chiesto Di mettere un cartello In cima a nord Praticamente zero Cartelli zero Abbiamo chiesto In comune Non più tardi Due settimane fa Di togliere Questo finto marciapiede Che c'è sulla destra Non si sa affatto da chi E c'è stato risposto Che il marciapiede Non viene tolto Abbiamo raggiunto Telefonicamente L'assessore Alla qualità urbana Fabiola Tonelli Che si trovava Momentaneamente Fuori regione Per rispondere Alla segnalazione Rispondo a queste segnalazioni Dicendo che Io per ora In comune Non ho ricevuto Diciamo nessuna visita Da queste persone Qui sicuramente Se sono problemi Di manutenzione Provederemo subito Se si trattano Di problemi Di viabilità Bisognerà Sicuramente Studiare un modo Per recare Meno fastidio possibile Considerando Che qui Era comunque Una zona industriale E quindi Evitare Nel transito Di alcuni camion Che devono Pur recarsi al lavoro Dovremo studiare Bene La situazione Quindi Invito questi cittadini A contattare La segreteria Per prendere appuntamento Monbaroccio Invece oggi Ha dato l'ultimo saluto A Varis Iacucci Presidente onorario Della Proloco Il cuore pulsante Di Monbaroccio È così Che lo hanno definito Coloro Che si sono riuniti Oggi Nella chiesa Dei Santi Vito e Modesto Di Monbaroccio Per dare un ultimo saluto A Varis Iacucci Ricordato da tutti Per la sua grande passione Per i musei La natura E l'amore Per il proprio paese Varis è sempre stato Un grande combattente Fino alla fine Dei suoi giorni Quando la malattia Se lo è portato via Ogni giorno Era un giorno nuovo E l'ultimo giorno In cui l'ho visto Nella sua lucidità Perché in ospedale Purtroppo La malattia Stava facendo il suo decorso Mi ha detto Sindaco Io sono pronto Io sono pronto Ad abbracciare la morte Sono pronto Dovesse essere oggi Dovesse essere domani Comunque io sono pronto Quindi stai tranquillo Io uscire all'ospedale Non dico sereno Ma sicuramente Con un stato d'animo Più libero Varis è stato Un riferimento Ogni mattina Che arrivavo in comune Era la prima persona Che vedevo Ed era la prima persona Che dava i consigli Su quello che c'era da fare Di giorno Che cosa avevano dimenticato Il giorno prima E quello che dovevamo fare domani Domani Varis è stato Un riferimento Per noi come amministrazione È stato un riferimento Per le scuole È stato un riferimento Per i turisti Per i nostri concittadini Quando Cercavamo di fare qualcosa La prima cosa Che ci veniva in mente È chiediamola Varis Che sicuramente Trova una soluzione Era un riferimento Per il bosco Per il sottobosco Per il legame con la natura Un riferimento Per la cultura del territorio Visto L'attaccamento La passione Che avevano nei musei Siamo nella sede Dove lo trovevamo Tutti i giorni Perché casa sua Non era a 100 metri Casa sua era questa Lui non stava bene Finché questo non fosse aperto Che i ragazzi collaborassero Che i ragazzi Vivessero le sue passioni Per condividerle Insieme alla gente Che veniva in Baroccia A trovarci Numerosi i presenti Alla celebrazione Tenuta da padre Renato Martino Dai membri del comune Di cui faceva parte Come presidente onorario All'istituzione Rappresentanti delle forze Dell'ordine Ai bambini A cui Varis Ha lasciato un segno Nel cuore Insegnando e trasmettendo Il suo modo di interpretare L'arte e la storia Facendo da guida Ai musei Per me era un padre Un nonno Per le mie figlie Credo Un grande uomo Che oggi abbiamo cercato Di ricordarlo Nel migliore dei modi Lascia un vuoto Indelebile E anche incolmabile E quando tu arrivavi A Monbaroccia Era il personaggio Di Monbaroccia Cioè a Monbaroccia Trovavi Varis Alla porta dei musei All'ingresso Io mi piace Da presidente della paroco Ricordarlo così Varis all'ingresso Dei musei Ma soprattutto Ringrazio Varis Per mi ricordare Le mie obbligazioni Confrutti Dopo quello Che ho seguito Grazie a un intero paese Per le nozze Che avete fatto Al suo operato Sicuramente Ha portato Un paese Che è comune Con Baroccia Al di fuori Del confine regionale Nel finale Al saluto Di un caro amico Varis Grazie Tragedia sfiorata Questa mattina Al porto di Fano Dove un uomo Ha perso il controllo Dell'auto Finendo con il veicolo Contro tavoli E sede di un bar Guardate Ha perso il controllo Ed è finito fuori strada È accaduto Questa notte All'altezza del bar Il caffè del porto Di Fano L'incidente autonomo Che ha coinvolto Solamente L'autista Della macchina Che si è schiantata Contro la staccionata Ed i tavoli Di proprietà Di alcuni ristoratori Situati All'altro lato Della carreggiata Il guidatore Rimasto illeso Avrebbe già pattuito Il pagamento Dei danni Sia privati Che al comune Tramite l'assicurazione E questa è la curva Da cui questa notte Una macchina È uscita fuori strada Andandosi a schiantare In questo punto Ed andando a distruggere Tavolini Sedie E le fioriere Appartenenti Alle attività Che sono poste Dall'altra parte Della carreggiata Un tratto di strada Fanno sapere i ristoratori Dove le auto Sfrecciano a tutta velocità Un pericolo per clienti E non solo Per quanto riguarda La curva È stato segnalato Diverse volte Sempre a livello verbale Comunque sì È una curva In cui si va Abbastanza forte Ma anche non andando forte Può bastare Veramente un attimo Un attimo Di distrazione E piuttosto che Far la curva Si va diritto Noi qui Diciamo tutti gli Tutti i locali Abbiamo parlato Più volte Comunque sia Che ci vorrebbe Un qualcosa Che rallentasse La macchina Quando arriva Se non è possibile Rallentare Con un dissuasore Con un dosso Con un qualcosa Perché c'è stato detto Che non si possono mettere Perlomeno Mettere un Un tutor Un autovelox Una qualsiasi cosa Che impedisca Comunque sia La macchina Di prendere la curva In velocità Quello sicuramente sì E io direi Che sia una cosa Da fare Anche in vista Della prossima estate Visto che Noi tutti Come attività Siamo andati Di là della strada Con i tavoli Per via del covid È una cosa Che è piaciuta a noi È piaciuta anche All'amministrazione È piaciuta Alla città di Fano È piaciuta ai turisti E quindi Se la cosa Si dovesse ripetere Preferiremmo Essere in sicurezza Noi operatori Che ci lavoriamo E sapere che sono In sicurezza I nostri clienti Ancora cronaca È stata scassinata Nella notte Una macchinetta del caffè In zona marina De Cesari A Fano Nello stabile In cui si trova Il ristorante Dedec Il distributore automatico È stato forzato E rotto in più punti Probabilmente Con l'obiettivo Di rubare il denaro Contenuto nella macchinetta Dare l'allarme Sono stati gli operai Del cantiere Adiacente alla struttura Che tutte le mattine Si recano lì Per una pausa Caffè Per domani Il Comune di Fano Organizza un incontro Via Facebook Sulla prevenzione e cura Del tumore al seno Tutti i dettagli Nel servizio di Filippo Pucci Il mese di ottobre È il mese dedicato Alla prevenzione E alla cura Del tumore al seno Per questo Anche quest'anno L'assessorato Alle pari opportunità Del Comune di Fano Organizza Per la giornata Di mercoledì 28 ottobre Un appuntamento Informativo Insieme all'unità Di senologia Breast Unit Fanese Di Marche Nord Visto l'aumento Dei contagi Da coronavirus L'incontro Verrà trasmesso Tramite Facebook Sulla pagina ufficiale Del Comune di Fano A partire Dalle ore 17 Saremo in diretta Facebook Sulla pagina Del Comune di Fano Dalle 17 Insieme Allo staff Della Breast Unit Senologica Di Marche Nord Di Fano Coordinata Dalla Dottor Magalotti Sarà un momento Per conoscere Le attività Della Breast Unit Che accompagna Le donne In tutta la fase Della prevenzione Della cura E del follow up Del tumore Al seno Quindi Voglio ricordare Che a chiunque Volesse Fare qualche domanda Al medico O ai medici Ci sarà Il radiologo L'oncologo E lo stesso Coordinatore Appunto Dello staff Che è Dottor Magalotti Può chiamare Già anche Da oggi Lo 0721 887 337 Per prenotarsi E fare Delle domande Specifiche Le donne Possono Tranquillamente Rimanere Anche Nell'anonimato Ma porre Comunque Le loro Domande E utilizzare Questo Contatto Diretto Con loro Molto Importante Questo Appuntamento Per ricordare Anche quanto Sia importante La prevenzione E rispondere Agli screening Oncologici Che la Regione Marche Manda Tutte le donne Ogni due anni Dai 50 anni In poi Al collegamento Prenderanno parte Anche il sindaco Di Fano Massimo Seri L'assessore Cucchiarini Insieme alla Direttrice generale Di Marche Nord Maria Capalbo Infine ci sarà L'intervento Di Alida Battistelli Presidente di Fior di Loto L'associazione Che collabora All'evento E accompagna Le donne Operate al seno Intanto Per tutto il mese Di ottobre Sarà possibile Sottoporsi A visite Senologiche Gratuite Nelle associazioni Lilt Chiamando il numero 338 8076 868 Il lunedì Ed il mercoledì Dalle 10 Alle 12 Oppure Inviando una mail A Lilt Pu Chiocciolagmail Punto com E ieri mattina La tartaruga Caretta Caretta La I.O. È stata restituita Su Habitat Naturale L'esemplare Era stato ritrovato Vivo Ma in difficoltà Lo scorso 21 settembre Da alcuni Diportisti Che avevano segnalato Il ritrovamento Alla sala operativa Della Guardia Costiera Di Fano L'animale Che era stato recuperato Dai militari A poche miglia Dall'imboccatura Del porto Era in evidente Stato di sofferenza Con un amo Da palangaro In bocca Dopo le prime cure Era stato consegnato Alla fondazione Cetacea di Riccione E ieri La tartaruga La I.O. Ha ripreso il largo E' stata liberata In mare Dall'equipaggio Della motovedetta Della Guardia Costiera Di Fano Cambiamo argomento Perché in questi giorni Fano ha dato il benvenuto Ad Ambra Una bimba Di 3 chili E 600 760 grammi Che lo scorso 25 ottobre Alle ore 8 e 15 E' venuta alla luce All'ospedale Santa Croce A dare il lieto annuncio Mamma Flavia E papà Davide Che descrivono così Questo momento Con il tuo arrivo Ora la nostra famiglia E' completa Benvenuta Ambra E allora Congratulazioni da Tutto lo staff Di Fano TV Il telegiornale Termina qui Tra poco Le previsioni del tempo E poi Missione Salute 338 4968 250 Invece è il numero Dedicato alle vostre segnalazioni Grazie per averci seguito Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sovrapposti